amici di mondo blackberry.com sono gianismart88 oggi vedremo per smartphone blackberry l'applicazione trova farmacie allora trova farmacie è un'utilissima applicazione che sfrutta ovviamente la nostra posizione per indicarci quali sono le farmacie più vicine a noi possiamo fare anche una ricerca libera quindi praticamente potremo anche cercare una farmacia oppure dare un input di cosa cercare e lui nella zona ovviamente ci trova oltre a farmacie c'è anche la ricerca di pronto soccorso assistenza domiciliare ospedaliere infermieri assistenti in napoli azienda e unità sanitaria locale farmacie napoli sanitari e articoli medicali a napoli medicinali e prodotti farmaceutici a napoli medicinali articoli e attrezzature praticamente se facciamo farmacie aperte a napoli ci dirà attualmente quale sono le farmacie che sono aperte qui nella zona come appunto vedete qui c'è la prima farmacia se clicchiamo sopra ci dirà ovviamente ci dirà alcuni dettagli quali sono ovviamente la via, l'indirizzo, il numero di telefono, il fax e gli orari di apertura e di chiusura ovviamente dei giorni che vengono a seguire potremmo anche lasciare un commento ecologicamente ci è stato fornito un buon servizio e rilasciare ovviamente una nota per chi verrà in futuro c'è anche il tasto chiama direttamente dallo smartphone c'è direttamente il tasto naviga dall'applicazione se facciamo il tasto naviga lui ci aprirà ovviamente il place di google ci dirà più o meno in che zona si trova ovviamente poi qui utilizziamo il browser e più o meno ci indicherà lui la nostra posizione e dov'è che si trova ma torniamo indietro all'applicazione mettiamo che vogliamo vedere un pronto soccorso nelle vicinanze clicchiamo sul pronto soccorso napoli e lui ci indicherà ovviamente quali sono i pronto soccorsi più vicini alla nostra posizione è un'applicazione molto utile a volte può capitare che di notte possiamo avere bisogno di una farmacia aperta in questo caso qua scriviamo andiamo nella sezione farmacie notturne aperte e lui ci indicherà gli orari di tutte le farmacie nella zona appunto aperte di notte con relativi ovviamente dettagli e numeri di lavoro l'applicazione è totalmente gratuita ed è disponibile su app word nel link nel nostro articolo vi invitiamo ad iscrivervi al nostro forum e di seguirci su youtube per mondoblackberry.com genismart88 alla prossima